Da segnalazioni dei territori ci è stata richiesta la possibilità di intervenire sul decoro urbano per garantire un ambiente, anche quello urbano, degno e consono, insomma, pulito e decoroso. Molto spesso i comuni sono imbavagliati dal patto di stabilità, hanno fondi e non possono utilizzarli e quindi abbiamo pensato a un disegno di legge da presentare in Regione che permetta ai comuni di intervenire laddove ci sia la necessità, graffiti, manutenzioni particolari perché le panchine rotte o altre cose che possono essere state segnalate dai cittadini e proprio per le segnalazioni abbiamo pensato di agevolarli, i comuni pensando di introdurre strumenti multicanali di segnalazione anche telematici ma non solo, anche tradizionali. La possibilità per i comuni di stipulare assicurazioni ad hoc per questo tipo di interventi, quindi senza bisogno di andare a intaccare il fondo che è vincolato dal patto di stabilità e non ultimo anche la possibilità di agganciare a questa proposta di legge il baratto amministrativo cioè utilizzare quelle persone che si rendono disponibili a lavorare per pagare tributi comunali perché non hanno possibilità di fare altrimenti, di essere impiegate anche per la parte del decoro urbano. Noi abbiamo depositato questa legge sull'ex e chiediamo a voi di contribuire a migliorarla sperando di fare tutti insieme un buon lavoro. Grazie